Sapevamo che dovevamo soffrire, avevamo il nostro pubblico con noi vicino, abbiamo sentito il loro calore, i giocatori sono entrati in campo nel modo giusto, abbiamo giocato la partita che dovevamo in un campo veramente difficile, in tutti i sensi, perché comunque la palla rimbalza spesso anche male, loro hanno un atteggiamento giusto per la Serie B, hanno giocato un'ottima partita, però non è che abbiamo concesso tantissimo, gli abbiamo concesso il predominio, però tutti i falli, tutti i lanci da centrocampo, comunque più super giù da centrocampo, perché siamo riusciti a controllare, perché oggi abbiamo giocato un'ottima partita a livello difensivo, secondo me abbiamo sofferto, ripeto, perché dobbiamo soffrire, perché il campionato di Serie B è questo, però abbiamo dato questa continuità ai risultati che era quella che ci voleva. Ma non lo so, dalla panchina sembrava nettissimo, perché stava in aria, io ho visto uguale la spinta, la spallata che lui ha ricevuto, poi non lo so, adesso io non ho visto le immagini, però comunque al di là di questo, poi negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, comunque potevamo sicuramente far male, abbiamo pensato più a tenere la palla, comunque a far passare i minuti, poi questo recupero incredibile, che nella partita sembrava non dovesse finire mai, ci ha portato adesso quest'altro risultato, siamo contenti soprattutto di aver vinto su questo campo, dove non ci è riuscito nessuno, e perciò questi sono punti veramente guadagnati, sono punti che ci portano nell'alta classifica, che è quella che noi dall'inizio del campionato pensavamo di meritare. E' qualche partita che stiamo vedendo, che la squadra ha l'atteggiamento giusto per questo campionato, non c'è bisogno di dover strafare e di giocare sempre la palla per terra e di dover fare 50 azioni, perciò adesso l'abbiamo capito, abbiamo trovato questa solidità, dobbiamo continuare così sicuramente, in queste ultime tre partite dobbiamo cercare di avere qualche punto di più per poter girare in quella posizione che ci aspettavamo all'inizio del campionato. Ma io ho visto che comunque al di là di qualche parola che ci sta da tutte le parti, però è stato un ottimo biglietto da visita quello che abbiamo presentato un po' a tutti quanti, perché l'Abruzzo per la prima volta trovava anche il Lanciano in Serie B, e loro hanno onorato sicuramente questa partita nel modo migliore, ed è stato uno spettacolo che penso è piaciuto a tutti i presenti, poi abbiamo vinto noi e noi pensiamo di averla meritata.